Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it È stata una settimana positiva, stiamo cominciando a recuperare un po' gli infortunati Gandini si è allenato regolarmente con la squadra l'unico al momento non disponibile è Chillo che non giocherà e una settimana in più di lavoro è servito per migliorare la condizione di quelli che hanno saltato tantissimi allenamenti durante il precampionato e allenamento dopo allenamento si è visto anche una crescita della squadra da un punto di vista fisico ma anche da un punto di vista tecnico e diciamo che ci siamo preparati un po' al meglio per questa sfida che per noi è abbastanza importante perché significa permetterci di arrivare alla sfida al vertice con Trieste a pari punti che sarebbe una cosa molto importante per giocarsi il primato assoluto nella domenica successiva Ordi Nuovi è una squadra che anche noi stessi presentandola ai nostri giocatori le abbiamo definiti come una squadra ruvida perché una squadra abbastanza tipica per questa categoria ha mantenuto gran parte dell'ossatura della squadra della scorsa stagione con la quale hanno fatto la promozione aggiungendo due americani di buon livello e hanno mantenuto anche un pochettino quello stesso stile di gioco della serie B che avevano l'anno scorso, vuol dire grande intensità sono molto aggressivi in difesa difendono anche al limite del fallo hanno dei lunghi molto mobili e delle guardie fisicamente molto forti che gli permettono anche di fare cambi sistematici su tante situazioni e quindi creare anche situazioni tattiche di difficile lettura sicuramente il valore complessivo della squadra è un po' inferiore al nostro però siamo consapevoli del fatto che se non siamo sufficientemente attenti, concentrati come si suol dire sul pezzo può diventare una partita tranquillamente difficile come poi l'ha dimostrato Trieste che ha vinto soffrendo la partita d'esordio e come ha dimostrato anche Ravenna che è stato punto a punto in casa contro di loro tutta la partita per poi vincere di poco per il resto mi viene da dire che sono una squadra che in una partita come questa non hanno niente da perdere quindi come per altre affrontano questa trasferta con la fortitudo con il massimo della leggerezza hanno tutto da guadagnare, niente da perdere al contrario nostro che invece abbiamo tutto da perdere e se vinciamo probabilmente per molti abbiamo fatto solo il nostro lavoro non è una partita scontata sarà una partita difficile se non sapremo affrontarla con la giusta attenzione può diventare anche pericolosa da questo punto di vista anche se chiama l'estate le partite sicuramente aiutano e forse è la partita più difficile da preparare? mentalmente è la partita più difficile da preparare perché comunque si va a giocare a Udine si sa che si gioca contro una squadra delle più furono un roster tra i più forti stessa cosa vale per Ferrara la prima in casa comunque mette anche fin troppa agitazione questa è la prima partita tra virgolette normale e quindi ci sono tutti i rischi del caso dal punto di vista mentale e questo soprattutto è l'errore che è banale ma non è banale al tempo stesso che non dobbiamo assolutamente fare perché rischiamo di inguaiarci di rovinare tutto quello che abbiamo fatto di buono fino adesso abbiamo parlato con i giocatori detto che la vittoria in trasferta vale come vittoria in trasferta solo se seguita da una vittoria in casa perché altrimenti poi alla fine dei conti rimarrebbe tutto uno a uno come fosse successo al contrario quindi sicuramente dal punto di vista mentale è una partita complicata anche perché magari tanti aspettano la partita dal big mess della settimana dopo e pensano che questo sia soltanto un passaggio per arrivare là ribadisco se non cominciamo con la giusta attenzione questa partita qui può diventare pericolosissima perché questi ragazzi orzi nuovi non mollano niente sono aggressivissimi sono il migliore la squadra che ha la migliore migliore nei rimbalzi offensivi hanno delle armi per crearsi dei problemi sicuramente dobbiamo soltanto pensare di essere concentrati per dare a seguito come ho detto prima una buona settimana di lavoro perché da martedì a oggi si è visto miglioramento crescita che è quello che ci siamo prefissi l'obiettivo e ci siamo prefissi in questo periodo si parlava di migliore squadra nei rimbalzi offensivi è capitato in alcune partite in alcuni tanti di partita che spesso avete sofferto al rimbalzo quindi può essere un po' questo questa può essere una chiave della partita sicuramente è chiaro che i rimbalzi dipendono dall'avere in squadra rimbalzisti ma dipendono anche da molte altre cose perché prendere i rimbalzi vuol dire partecipazione di tutti i cinque giocatori parlo di rimbalzi difensivi partecipazione di tutti i cinque giocatori al problema allora spesso se il lungo depurtato a prendere il rimbalzo taglia fuori il suo diretto avversario però all'esterno non taglia fuori il proprio ecco che il rimbalzista pur bravo che sia si viene a trovare due contro uno a prendere un rimbalzo è sicuramente uno dei tanti aspetti sui quali noi dobbiamo migliorare secondo me già a Ferrara non abbiamo sofferto così tanto c'è stato un piccolo passo avanti questo di domenica da questo punto di vista sarà un bel test chilo non giocherà non ha ancora iniziato a giocare cinque contro cinque con la squadra sta ancora lavorando con il preparatore atletico e con il fisioterapista secondo me durante la settimana prossima lo recupereremo non so se già da martedì oppure qualche giorno successivo comunque ha cominciato a fare anche pallacanestro a lavorare con la palla senza contatti ancora diciamo che lo staff medico lo rivaluterà alla ripresa degli allenamenti di martedì e potrebbe anche se non ci sono problemi potrebbe iniziare insomma altrimenti magari precauzionalmente gli darà ancora qualche giorno sì sì è l'unico gli altri si sono allenati tutti quanti insieme senza problemi può essere qualcosa in più rispetto a sicuramente sì ma sicuramente qualcosina in più qualcosina in più settimana in settimana l'abbiamo e dobbiamo partire comunque dall'obiettivo dal dal fatto che abbiamo avuto tanti giocatori infortunati sempre diversi in tutto l'arco della preparazione e diciamo che in questo momento quello che ci manca è proprio lavorare con tutti quanti assieme per cominciare anche a costruire quella che è la squadra l'identità della squadra anche il conoscersi anche il le gerarchie i minutaggi i tempi che stanno in campo per esempio faccio un esempio solo per fare un esempio McKamey sta giocando 35 minuti finché non ha avuto Fulz finché Fulz era infortunato adesso rientra Fulz McKamey potrebbe giocare i suoi minuti se possono essere 25 28 22 o anche 30 però chiaramente avendo una rotazione a due giocatori è chiaro che si può spendere di più e alzare la qualità in un qualità di rendimento in un tempo di impiego ridotto insomma quando uno sa che deve giocare 40 minuti e ha sulle spalle tutta la squadra e che è inevitabilmente costretto a gestire qualcosa sia in termini di energia in termini di falli spesi in termini anche di intensità quando invece si comincia ad avere la squadra completa si comincia anche a poter giocare qualche minuto in meno con più freschezza più lucidità se prima di Ferrara il grande atteso era Amici come ex della partita e anche perché era il debutto diciamo che uno dei giocatori fra virgolette chiave sia per l'assenza di Chillo sia anche per una sua per un ricorso storico che lo riguarda personalmente nella parità contro Zinori uno dei protagonisti attesi alla vigilia potrebbe essere italiano? ma sì secondo me italiano a Ferrara ha fatto una buona partita e ha segnato anche un canestro da tre punti in un momento delicato che è stato importantissimo forse anche il più importante di tutti chiaramente chiaramente la mancanza di Chillo un pochettino per certi versi lo mette nelle condizioni di giocare meglio perché gioca qualche minuto in più nel suo ruolo diciamo dell'anno scorso è chiaro che questa cosa qui peraltro rallenta un po' l'inserimento dall'altra parte però magari gli può servire per prendere fiducia comunque lui sta lavorando bene si sta allenando bene ci sta andando dentro come un matto perché è proprio un suo obiettivo diventare cambiare ruolo diventare un numero tre io credo che di partita in partita lo vedremo lo vedremo sempre meglio adesso ci sarà probabilmente vedremo ancora alti e bassi per un po' però questo era previsto era previsto già quest'estate era previsto all'inizio e non ci preoccupiamo noi contiamo di averlo pronto più avanti nel momento in cui si deciderà tutto il governo unico superstito di quella squadra che è in Serie B conquistò quella promozione ci fu il cambio in panchina Dononi Boniccioli italiano fu uno dei giocatori che è uguale sia nel Caravetto e l'ultima volta che la Forbituro incontrò di nuovo e arrivò poi la promozione in A2 allora in queste ultime settimane Boniccioli ha parlato di partite che fanno che snodano che fanno orientare il corso di una stagione però dopo tre vittorie vinte conquistare un poker e una strada può sembrare può sembrare semplice potrebbe essere uno di questi snodi anche considerando il ricorso storico di Orzimone che a suo tempo concise con il ritorno in A2 il ricorso storico mi piace intanto però allora la partita di fatto è semplice se non pensiamo che sia semplice nel senso che la partita è tutto fuori che è scontata una cosa che abbiamo detto ai ragazzi in settimana è che noi vogliamo questi due punti qui soprattutto per arrivare a punteggio pieno come ho detto prima alla sfida con Trieste è chiaro che dobbiamo partire dal presupposto che ci dobbiamo guadagnare tutto tante volte si sono viste squadre di seconda fascia se vogliamo di classifica venire sul campo della fortitude a fare la partita della vita questo è quello che ci aspettiamo anche domenica loro arriveranno qui hanno vinto la prima partita non dimentichiamo ci sono giocatori motivatissimi perché tanti di questi sono stati un sacco di anni mestieranti di serie B che forse hanno la prima occasione di giocare in serie A non lasceranno niente al caso e niente di intentato per cui noi dobbiamo pensare che questa qui che incontreremo una squadra che combatterà dal primo all'ultimo secondo e appena la nostra attenzione calerà solo di poco probabilmente loro ci metteranno in difficoltà e cercheranno di metterci sotto non hanno niente da perdere vengono con una leggerezza invidiabile noi invece abbiamo tutto da perdere questa sarà una delle chiavi mentali della partita per cui dobbiamo pensare che questa partita qui è difficile tanto quanto quella di Ferrara e tanto quanto quella di Udine o di Iesi in casa stessa Iesi uno pensava sono corti manca un giocatore non arriveranno alla fine però non si sa perché quando poi una squadra va a giocare contro la prima in classifica in questo caso in trasferta improvvisamente trova energie che nessuno nemmeno loro pensavano di avere prima questa fortitudine che Bianchianino sta ritrovando un roster sta ritrovando la profondità effettiva di un roster costruito con obiettivi importanti in estate a questo punto percentualmente quanto può produrre del suo valore e del suo potenziale allora adesso così è molto difficile anche perché secondo me tre partite ancora sono poche sia per fare un'analisi su se stesse sia per anche per fare una comparazione con le squadre avversarie secondo me abbiamo margine di miglioramento enormi ma più che margine di miglioramento enormi dobbiamo ancora costruirci costruirci come identità costruirci come modo di giocare come spirito col quale andare in campo come spogliatoio come gerarchie per cui noi sentiamo che in questo momento noi stiamo recuperando il precampionato per cui ancora in questo momento non abbiamo una abbiamo la sensazione di avere una squadra molto forte questo sì non abbiamo ancora la 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 chiarezza la la certezza di quanto siamo forti qui vorremmo un pochettino avere tutta la squadra per tre settimane poterci lavorare aspettare ancora un sette o otto partite diciamo per poter capire anche qual è la forza in relazione alle altre squadre poi secondo me un discorso del genere lo possiamo fare adesso mi sembra ancora un po' un po' presto sinceramente una provocazione è una fortitudo che ha tante frecce al suo arco quindi la possibilità di trovare protagonisti sempre in modo però effettivamente in queste prime partite il trascinatore principale è stato Mancinelli allora io ti chiedo è paradossalmente una fortitudo fra virgolette dipendente secondo te da Mancinelli oppure diciamo lui è stato il leader scusami lui è stato il protagonista di questo momento di stagione però qualora non riuscisse a mantenersi su certi livelli gli altri saprebbero tranquillamente compensare questa mancanza allora secondo me fino adesso Mancinelli è stato il migliore anche per i compagni che gli stanno attorno nel senso che con tre esterni che non possono essere battezzati tra virgolette ma che devono essere difesi costantemente a lui si sono aperti molti spazi che non aveva prima è chiaro che noi vogliamo costruire una squadra diciamo dando pari opportunità in attacco a tutti quanti lavorando e costruendo il tiro migliore possibile per quello più libero indipendentemente da chi sia chiaro che poi può succedere qualche partita che c'è più possibilità di fare questo Mancinelli qualcuna sarà amici qualcuna sarà Ligion qualcuna sarà Nazareno italiano questo inizio di stagione di Mancinelli sicuramente è stato importante anche perché sta tirando con alte percentuali secondo me ha beneficiato tantissimo di quelli che gli stanno intorno che sono tutti giocatori esperti che sanno quando dargli la palla che sanno andare da lui tutte le volte che serve sanno metterlo nelle condizioni migliori possibili per poter giocare come sa e poi lui è un giocatore di grandissimo talento per cui dopo quando gioca in queste condizioni qua lui ancora può fare una differenza incredibile in questo campionato comunque non siamo dipendenti nel senso che abbiamo talmente tante armi da sparare che secondo me possiamo non essere dipendenti da nessuno tra virgolette saranno tutti importantissimi non ci sarà il giocatore indispensabile e secondo me un po' alla volta verrà fuori tutto questo lavoro qui ma questo poi verrà fuori anche quando avremo la possibilità di lavorarci un po' perché fino adesso abbiamo lavorato sempre con sei o sette giocatori tre quattro assenti ruoli diversi giocatori diversi per cui quello che ci manca ancora è un po' di equilibrio in questa cosa qui però settimana dopo settimana verrà domani avrete fatto Udine avrete fatto Rimini Ferrar domani tornate a Rimini poi dopo c'è Rieste e giocate finalmente con Verona con Verona che cosa cioè quando vi manca Paladozza e soprattutto essendo praticamente sempre introsferta secondo voi la mentalità cioè il fisico ne risente? ma no non ne risente è chiaro che giocare al Paladozza non ha paragoni non è uguale a niente per cui insomma tutti quanti stanno aspettando quel giorno tra virgolette è un po' giocare a Rimini chiaramente ci si sente sempre in trasferta nel senso ci sentiamo di cominciare cinque partite in trasferta e poi di cominciare a giocare in casa sinceramente a livello di pensarci non ci pensiamo tanto cerchiamo di pensare una partita alla volta e comunque insomma fino adesso i ragazzi sono stati serissimi non hanno mai trovato alibi scuse giustificazioni abbiamo sempre cercato di mettere in campo tutto quello che avevamo per cui insomma non sento che ci siano stati problemi dal punto di vista tecnico è chiaro che il Paladozza ci manca non vediamo l'ora di giocare a casa nostra il nostro pubblico al nostro posto al suo posto è tutto quello che è il Paladozza insomma il Paladozza non è uguale penso in tutta Europa quindi penso che un giocatore che viene a giocare a Bologna la prima cosa cui pensa è entrare dal tunnel dal Paladozza come energie mentali invece dice che non è si energie mentali si però si diciamo di si però insomma non si 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 un'ultima domanda ieri parlando con Carravetto si si è affrontato il tema della leadership allora chiaramente a di là di Manciniere di cui abbiamo parlato di Fulzi di Cinciarie lui mi ha parlato anche di Gandini definendo un po' un leader silenzioso lui Carravetto era stato a sua volta un leader silenzioso allora vorrei sapere un tuo parere alla vigilia della partita di Ortimoni con Gandini che rientra dopo un momento di difficoltà che cosa pensi possa dare ma soprattutto se tu condividi il fatto che lui possa avere questo ruolo di leadership noi quando pensiamo a Gandini magari pensiamo a un giocatore che è più un gregario io stesso parlamo con me qualche volta mi ha detto di accettare con piacere questo ruolo nel senso più nobile della sua accezione quindi ti chiedo un commento tu che avevi tutti i giorni sul ruolo di Gandini su cosa Gandini potrà dare domani ma soprattutto sul ruolo che Gandini ha all'interno di questo giocatore Gandini per il tipo di giocatore di persona prima che di giocatore che è innanzitutto un giocatore a cui tutti vogliono bene io Gandini l'ho avuto anche a Trieste quando facevo il vice di Dal Masson abbiamo fatto la promozione in A2 con lui è il primo è una bravissima persona è il primo che si sbatte per i compagni è il primo che fa un tuffo quando serve è il primo che fa una difesa è il primo che aiuta i compagni quando hanno bisogno è uno così innanzitutto è sempre apprezzato da tutti i compagni di squadra il suo compagno di squadra mai gli tira di no su niente lui in questo senso è anche un leader perché ogni tanto quando le cose non vanno bene lui riesce a dare energia a tutta la squadra con un tuffo con un rimbalzo con una difesa con uno sfondamento subito e ogni tanto anche con un tiro da tre punti in questo lui ha una sorta di leadership perché spesso a me è capitato di vedere anche negli anni passati anche a Trieste con queste cose qua risvegliare una squadra intera un gruppo intero anche di giocatori più esperti avevamo in quegli anni la anche giocatori importanti e lui in questo senso è un leadership silenzioso sono assolutamente d'accordo con Marco Carraretto siamo comunque una squadra di grande personalità perché abbiamo tante personalità all'interno dello spogliatoio tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it sempre aggiornato 24 ore su 24 sportpress.it